Venezia si sta spopolando, sta diventando sempre più ostaggio di un turismo che ormai la sta annullando, ma dall'altra parte ha bisogno di vedersi realizzare come città. Purtroppo negli anni 50-60 sono stati fatti dei sbagli di costruire una città, diciamo dormitorio, si sta cercando di recuperare. Non è certo un quadro idilliaco quello disegnato da Salvatore Mazzocca, presidente di Confartigianato della città metropolitana, ma l'analisi sulla situazione di Venezia e Mestre rimane forse l'unico punto in comune con chi sostiene nel prossimo referendum la creazione di due amministrazioni distinte. Secondo Mazzocco c'è bisogno di una riflessione profonda su problemi seri che esigono risposte altrettanto serie dalla politica. Diciamo dire Mestre-Venezia, un'autonomia tra Mestre-Venezia. Credo che oggi si debba parlare di una città più vasta. Le grandi metropoli, Parigi, New York, le città gigantesche della Cina, ci devono insegnare. Noi abbiamo il Veneto che forse farà una popolazione simile a Shanghai, quindi dobbiamo superare. I giovani credo che ci daranno delle risposte in tal senso. Più o meno sulla stessa linea anche il presidente della Confederazione Nazionale Artigianato e piccole e medie imprese della città di Venezia, Giancarlo Burigatto. Ne abbiamo ragionato anche, abbiamo fatto dei sondaggi con i nostri mandamenti. Dividere non so quanto bene porti, poi dividere a dei costi insostenibili, cioè due municipi, due amministrazioni, tutto doppio, tutto doppio. Ma che vantaggio ne ha il singolo cittadino? Che vantaggio ne ha la piccola e media azienda o le grandi aziende? Ci sono già stati fatti diversi tentativi per questa divisione, non sono mai andati a buon fine, credo che neanche questa volta andrà.